effettivamente c'era stato un nuovo minimo e i prezzi poi erano ripartiti facendoci pensare appunto che l'euro dollaro avrebbe cominciato ad andare verso l'alto e noi avevamo un target addirittura superiore a 1,15 abbiamo anche pensato che potesse arrivare l'euro dollaro a 1,16 cosa è successo il giorno dopo lo vediamo qui il giorno dopo i prezzi hanno cominciato a scendere e addirittura sono andati vicino al minimo da cui era ripartito questo ciclo quindi noi che ci aspettavamo un forte rialzo che cosa abbiamo fatto? abbiamo detto allora l'euro dollaro non è salito è tornato ai prezzi precedenti quindi ci mettiamo al ribasso tant'è che abbiamo ancora dai livelli di 1,11 e 55 una posizione short che vediamo qua che sta guadagnando molto bene perché la stiamo mantenendo chiaramente il tempo va avanti ok quindi che cosa è successo? è successo che questo famoso ormai dico famoso perché appassionato tanti ciclo a 15 allora eccoci qua torniamo nella nostra home page questo famoso ciclo a 9 giorni a un certo punto è scaduto nel senso che è partito il 15 siamo arrivati siamo arrivati appunto a oggi scusate ecco qui perfetto siamo arrivati ad oggi o meglio siamo arrivati al giorno all'articolo in cui qualche giorno fa era il 24 abbiamo detto previsto un minimo per il giorno 27 ok previsto un minimo per il giorno 27 da lì chiaramente al tempo non sapevamo che i prezzi effettivamente sarebbero scesi dovevamo ancora capire cosa sarebbe successo oggi abbiamo questa situazione euro dollaro oggi previsto minimo e nell'articolo dicevamo allora guardate che dato che parte un ciclo così importante come quello a 9 giorni che è molto preciso potrebbe fare dei nuovi minimi per ripartire tutto bene tutto bene se non che l'euro dollaro ci ha fregato perché effettivamente ha fatto un nuovo minimo ma noi avevamo uno stop loss comunque molto stretto a 35 pips che c'è stato preso ok come poi spesso capita in questi casi ci ha proprio preso lo stop guardate noi l'avevamo a 08 e 30 è andato a 08 e 20 dopodiché è ripartito quindi quello che io ho fatto adesso e se vi è piaciuta questa analisi vi dico di farlo anche voi è di andare long fare un'operazione long sull'euro dollaro e se dovesse scendere ancora di nuovo sotto 0850 incrementare la posizione quindi io cosa ho fatto ho di nuovo inserito un cippettino come lo chiamiamo noi di investire punto biz ovvero una posizione civetta per capire un attimo come si muove l'euro dollaro che se dovesse partire perché attenzione che qui siamo oggi precisi sul minimo del ciclo a 9 giorni ok quindi potrebbe tranquillamente partire un ciclo adesso vedremo dove eventualmente può andare però però ricordandoci sempre che la posizione principale sull'euro dollaro rimane ribassista infatti non la chiudiamo perché la posizione ribassista sull'euro dollaro è una posizione di più ampio respiro ok grazie 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 Grazie.